Non è né una biografia né un bilancio, è chiaro che sinteticamente dovendo mettere un sottotitolo si mette una biografia di musica perché sono in scena con sei musicisti. Ci sono degli appuntamenti diciamo lungo il percorso dell'acconto che è totalmente libero, non è scritto quindi ogni sera cambia, vale a dire che io so dove voglio arrivare, quali sono i punti importanti che voglio raccontare ma uso sempre parole diverse per arrivarci. Ci sono degli appuntamenti musicali perché ho scelto diciamo fra le cose che ho fatto quelle più importanti del cinema, del teatro, della musica, se no durano quattro ore e mezza lo spettacolo. Ma non è una biografia, è un modo di parlare di maniera sincera e ripeto libera del teatro, degli affetti, dell'amore, della musica, della differenza tra il teatro e la musica, della differenza tra il teatro e il cinema, di un rapporto con gli incontri della vita, del destino di Napoli.